Ci troviamo in compagnia del nuovo sindaco di Alife, il dottor Cirioli. Buongiorno sindaco. Un risultato ottimale e del tutto inaspettato? No, non era. Io ero molto fiducioso, forse nei numeri inaspettato e questo rafforza ancora di più la mia convinzione che avevo prima delle elezioni, cioè che Alife avrà bisogno di un cambiamento radicale e fortunatamente c'è stato. Cambiamento dettato anche dai giovani, numerosi all'interno della sua lista e anche tra i votanti. Allora, la cosa che mi ha colpito di più durante la mia campagna elettorale è che è stato un crescendo di persone ma soprattutto di giovani. Abbiamo cominciato i primi comizi un poco in sordina, pensa che in questa campagna elettorale proprio perché lo scopo mio era quello di far riavvicinare la gente alla politica ho fatto tra comizi e incontri di quartiere una cosa come 11 interventi in 20 giorni, quindi sono stato a parlare tutte le sere e dicevo quindi mano a mano che passavano i giorni si avvicinavano sempre di più i giovani e l'apoteose, la cosa più bella è stata la sera che ci sono stati i risultati elettorali, c'è stato lo spoglio delle schede che davanti alla mia sezione a Santa Caterina ci stavano qualcosa come 400 giovani che mi hanno tenuto compagnia finché non c'è stata la proclamazione la mattina poi alle 8 del giorno successivo e quindi questo mi ha fatto enormemente piacere perché io ho fatto altre campagne elettorali non avevo visto mai il coinvolgimento dei giovani, i giovani erano quasi schifati, scusate il termine verso la politica, ormai non si interessavano più di niente questo avvicinamento mi ha fatto piacere e sarà un punto di partenza perché io nella mia amministrazione terrò molto conto dei giovani ma soprattutto terrò conto di tutti i cittadini perché io ho detto come slogan della campagna elettorale una fascia tricolore per ogni voto dato alla mia lista quindi Alife ha 2768 sindaci, io terrò conto di tutti e chiederò la partecipazione di tutti per aiutarmi a migliorare il nostro paese Qualche tempo fa ho fatto un sondaggio da Alife nel quale chiedevo ai cittadini quale sarebbe stata la prima cosa che avrebbero fatto da sindaco qual è la prima cosa che farà lei in quanto nuovo sindaco di Alife? Allora io, anche questo è stato un leitmotiv della mia campagna elettorale sono salito sul palco dicendo che di non poter promettere nulla ai miei concittadini perché c'è anche una situazione abbastanza seria dal punto di vista economico sul comune come del resto c'è in tanti altri comuni io mi propongo come prima cosa di migliorare la vivibilità di far vivere meglio gli Alifani di andare a fare delle operazioni su quelle cose che devono essere nel 2016 un diritto per gli Alifani le fogne, l'acqua, girando nelle campagne mi sono reso conto che ci sono ancora zone che non sono servite dall'acqua e che nel 2016 è una cosa veramente da non credere quindi noi metteremo le mani su queste cose oltre che poi a ripopolare il centro storico perché Alife adesso ha un centro storico bellissimo dal punto di vista architettonico e storico ma dal punto di vista commerciale sembra quasi un cimitero perché tutte le attività commerciali sono andate via via chiudendo per i problemi economici e tutto l'altro e quindi ho proposto anche una detassazione delle imposte comunali per 5 anni e un contributo sul fitto su chi verrà a spendere i soldi ad Alife cioè a creare un'attività commerciale nel centro storico per ripopolarlo faremo di tutto, porteremo anche qualche ufficio comunale all'interno del centro storico per portare più gente all'interno di Alife Lei ha accennato una problematica importante che riguarda Alife e il dissesto finanziario è stato già stilato un programma per cercare di soppelire a questo problema? Allora il programma fondamentalmente lo ha stilato l'amministrazione precedente col DL35 che è stato creato proprio dallo Stato per far fronte ai debiti provenienti dalle pubbliche amministrazioni e quindi l'amministrazione Avegone ha fatto una ricognizione dei debiti che c'erano e ha fatto tre mutui per un totale di 7 milioni e disperi di euro che pagheremmo nei prossimi 30 anni fino al 2044 con un aggravio di oltre 3 milioni di interessi ma comunque ci ha messo in condizioni di poter andare avanti perché se ci fossimo trovati davanti a un muro di 11 milioni di debiti praticamente avremmo dovuto fare il dissesto adesso ci troviamo di fronte a una rata da 300-400 mila euro l'anno cioè 1000 euro al giorno da pagare sì per i prossimi 30 anni ma che ci danno fiducia e speranza per poter affrontare questo nuovo cammino con l'amministrazione Con la stessa fiducia e con la stessa speranza io le auguro di fare veramente bene per Alife nei prossimi 5 anni Speriamo bene, io sono molto fiducioso partiamo dalle piccole cose e poi cercheremo anche di raggiungere i grandi obiettivi Grazie Sindaco Da Piedimonte e Matese è tutto, Luisa Porto per casertasera.it